Sono stati giorni difficili, ne siamo usciti veramente provati sia fisicamente che psicologicamente perché ricevere in 24 ore 7.000 persone su un territorio così piccolo, 7.000 persone che ti chiedono aiuto, che hanno bisogno di soccorsi non è stato semplice, ha mandato un po' in tilt tutto quello che è la macchina dell'accoglienza e delle soccorsi, però abbiamo superato pure questo. L'importante è non farci trovare impreparati per il futuro. 7.000 persone vuol dire più degli abitanti dell'isola? Più degli abitanti, che si sono aggiunti ai 3.000 che già avevamo all'hotspot, quindi ne avevamo 10.000 contemporaneamente sull'isola, però siamo riusciti a superare questo momento. Quella di questi giorni è stata l'ultima di una serie di emergenze, si parlava di circa 30 anni di accoglienza che quest'isola dà. Gli abitanti come vivono questa situazione? Guardi, noi ormai ci conviviamo più che come la viviamo, ci conviviamo perché è dall'88 che arrivano queste persone, però un conto, come detto poc'anzi, è gestire quella che è degli arrivi che sono sporadici, un conto avere a che fare con un problema storico, con numeri che sono diventati insostenibili e che certamente l'isola non può far fronte a tutto ciò. Avete avuto delle rassicurazioni da parte delle istituzioni, degli enti sovraordinati? Guardi, dal governo italiano, insomma, dal presidente della Commissione europea, hanno detto che lavoreranno anche per una missione navale europea, almeno questo è stato detto. Ci è stato garantito, promesso, che ci sarà, come dire, maggiore attenzione nei confronti della nostra isola per velocizzare quelli che sono i trasferimenti, per renderli continuativi e per evitare che risucceda quello che è già successo.